Ha qualcosa da dire? Rosso signore Continui! Wonderland, mi permetti di vederti? No, devo darci da mangiare a piccoli Oh padre, questi sono i figli di me, vogliono aprire un conto corretto Oh sono serio figliolo, senza tratti, sforzi, in breve, eccellente, eccellente E non l'hai, non l'hai fatto, vuoi comprare obbligazioni e azioni No, non voglio Pandoni, vado a mangiare ai piccioni e cosa tieni, tu e Penny? Pandoni, vado a mangiare ai piccoli e cazata a un figliolo Pandoni, vado a mangiare ai piccoli e cazzata a una Incivilare ai piccoli e cazzata anzi Tornato in aprire un cavali Pоля a tornato in aprire un animale Grazie a tutti.